Il Foritalico perché, come un nostro concittadino scrittore ha scritto, è un posto dove tu cammini, passeggi ma non vedi il mare. Perché se guardate bene il prato verde del Foritalico ha una specie di gobba, per cui anche passeggiando a piedi sulla strada in macchina non si riesce a vedere il mare. C'è questo orizzonte segnato proprio dalla gobba dell'erba verde con l'azzurro del cielo. Quindi sicuramente la parte più martoriata con il materiale risultato della seconda guerra mondiale è stata il Foritalico. Grazie.